tutta la cittadina di vesile retel aveva assistito ai funerali e alla sepoltura del signor badon leremins e le ultime parole del discorso del delegato della prefettura rimanevano scolpite nella memoria di tutti è un onestuomo di meno questo onestuomo lo era stato in tutti gli atti apprezzabili della sua vita nelle parole nell'esempio nell'abito nel portamento nel taglio della sua barba e nella forma dei suoi capelli non aveva mai detto una parola che non racchiudesse un esempio mai fatto un'elemosina senza accompagnarla da un consiglio mai teso una mano senza aver l'aria di dare una specie di benedizione lasciava due figli un maschio e una femmina il figlio era consigliare generale e la figlia poiché aveva sposato un notaio il signor poirel della vulta era tra le signore più in vista nella città di vesier erano entrambi inconsolabili per la morte del padre che amavano sinceramente terminata la cerimonia funebre rientrarono nella casa del defunto e chiusissi tutti e tre il figlio la figlia e il genero aprirono il testamento che doveva essere dissuggellato da essi soli e soltanto dopo che la bara fosse stata enumata un'annotazione sulla busta esprimeva tale volontà fu il signor poirel della vulta a lacerare la busta nella sua qualità di notaio avvezzo a tali operazioni aggiustate gli occhiali sul naso lesse con la sua voce opaca adatta a sminuzzare i contratti figli miei cari figli miei non potrei dormire tranquillo all'eterno sonno se non vi facessi nella tomba una confessione la confessione di un delitto il rimorso del quale ha lacerato la mia vita sì ho commesso un delitto un delitto spaventoso e abominevole avevo allora 26 anni ed esordivo nel foro di parigi vivendo in quella città la vita dei giovani di provincia senza conoscenze senza genitori prese un amante quanta gente si sdegna a questa sola parola un amante eppure vi sono persone che non possono vivere sole io sono fra costoro la solitudine mi riempie di un'angoscia orribile soprattutto nella casa presso il fuoco la sera mi sembra allora di essere solo sulla terra spaventosamente solo ma circondato di pericoli vaghi di cose niente e terribili e la parete che mi separa dal mio vicino dal mio vicino che non conosco mi allontana da lui quanto dalle stelle scorte dalla mia finestra una specie di febbre mi invade una febbre di impazienza è così profondo e triste quel silenzio della camera ove si vive soli non è soltanto un silenzio intorno all'anima quando un mobile scriccola o trasalisce si è colpiti sino al cuore poiché nessun rumore è atteso nel triste alloggio quante volte snervato impaurito da quella immobilità muta mi sono messo a parlare a pronunciare parole senza senso senza ragione soltanto per far rumore la mia voce allora mi pareva tanto strana che ne avevo anche paura esiste cosa più spaventosa che parlare solo in una casa vuota la voce sembra quella di un altro una voce ignota che parla senza motivo a nessuno nell'aria vuota senza alcun orecchio per udirla poiché si conoscono prima che sfuggano nella solitudine della casa le parole che stanno per uscire di bocca e quando risuonano lugubremente nel silenzio e sanno soltanto il suono di un eco l'eco singolare delle parole pronunciate sottovoce dal pensiero prese un amante una giovane donna una di quelle povere giovani donne che vivono a parigi di un mestiere insufficiente a nutrirle era dolce buona semplice i suoi genitori abitavano a poassi e l'andava a trascorrere qualche giorno presso di loro di tanto in tanto per un anno visse abbastanza tranquillo con lei deciso a lasciarla allorché avessi trovato una fanciulla che mi fosse piaciuta abbastanza per sposarla avrei lasciato all'altra una piccola rendita poiché è ammesso nella nostra società che l'amore di una donna deve essere pagato con denaro quando è povera con regali quando è ricca ma un giorno lei mi annunciò che era incinta fui anneantato e scorsi in un attimo tutto il disastro della mia esistenza mi si affacciò alla mente la catena che avrei trascinato sino alla morte dappertutto nella mia famiglia futura nella mia vecchiaia sempre catena del bambino che bisognava allevare sorvegliare proteggere sempre nascondendomi a lui e nascondendo lui al mondo ebbi la mente sconvolta da quella notizia è un desiderio confuso che non formulai ma che sentivo nel mio cuore pronto a mostrarsi come quelle persone nascoste dietro qualche tenda per attendere che si dica loro di comparire un desiderio criminoso ronzò in fondo al mio pensiero se una disgrazia potesse accadere me ne sono tanti di quei piccoli esseri che muoiono prima di nascere o non desideravo affatto la morte della mia amante amavo molto quella povera ragazza ma auguravo forse la morte dell'altro prima di averlo visto nacque ebbi una famiglia nel mio piccolo appartamento di scapolo una falsa famiglia con un bambino cosa orribile assomigliava a tutti i bambini non lo amavo no i padri vedete non amano che più tardi non hanno la tenerezza istintiva e impetuosa delle madri bisogna che il loro affetto si desti a poco a poco che il loro spirito si leghi con quei vincoli lenti con cui si uniscono le creature che insieme convivono un anno ancora trascorse fuggivo ora la mia casa troppo piccola dove apparivano lini fasce calze minuscole come dita di un guanto mille cose di ogni specie lasciate su di un mobile sui bracciogli di una poltrona dappertutto fuggivo soprattutto per non udirlo gridare perché gridava sempre quando lo si cambiava quando lo si lavava quando lo si toccava quando lo si metteva a letto quando lo si alzava incessantemente avevo fatto nel frattempo qualche conoscenza e incontrai un giorno in un salotto quella che doveva essere vostra madre me ne innamorai e il desiderio di sposarla si è accesa in me le feci la corte la chiesi in moglie e la sua mano mi fu accordata e mi trovai preso in una tagliola sposare con un bambino quella fanciulla che adoravo oppure dire la verità e rinunciare a lei alla felicità all'avvenire a tutto perché i suoi genitori gente rigida e scrupolosa non me l'avrebbero data che avessero saputo passai un mese orribile di angoscia di torture morali un mese in cui mille pensieri spaventevoli mi ossessionarono e sentivo ingigantire in me un odio contro mio figlio contro quel piccolo pezzo di carne viva e urlante che sbarrava la mia strada spezzava la mia vita mi condannava a un'esistenza senza attesa senza tutte quelle speranze vaghe che fanno bella la giovinezza ma ecco che un giorno la madre della mia compagna cadde ammalata e rimasi solo con il bambino eravamo in dicembre faceva un freddo terribile che notte la mia amante era appena uscita avevo cenato solo nel mio piccolo tinello ed entrai nella camera ovvero viva il piccolo senza far rumore sedette in una poltrona dinanzi al fuoco il vento soffiava faceva tintinnare i vetri un vento secco e gelido e vedevo attraverso la finestra brillare le stelle di quella luce acuta che esse hanno nelle notti di acce l'ossessione allora che mi opprimeva da un mese penetrò di nuovo nel mio cervello non appena rimanevo immobile discendeva su di me penetrava in me e mi dilaniava mi dilaniava come dilaniano le idee fisse come i cancri devono rodere le carni era lì nella mia testa nel mio cuore nel mio corpo intero mi sembrava e mi divorava così come avrebbe fatto una bestia volevo scacciarla respingerla aprire il mio pensiero ad altre cose speranze nuove come si apre una finestra al vento fresco del mattino per scacciare l'aria viziata della notte ma non potevo nemmeno per un attimo farla uscire dal mio cervello non so come esprimere questa tortura essa mi rosicchiava l'anima e sentivo con un dolore spaventevole un vero dolore fisico e morale ognuno dei suoi morsi la mia esistenza era finita come sarei uscito da quella situazione come indietrezzare e come confessare mi amavo colai che doveva diventare vostra madre di una passione folle che l'insormontabile ostacolo esasperava ancora di più un'ira terribile ingigantiva e mi stringeva la gola un'ira che la sentava la pazzia la pazzia certo ero pazzo quella sera che bambino dormiva ma sai lo guardai dormire era lui quell'aborto quella larva quel nulla che mi condannava ad una infelicità senza appello dormiva con la bocca socchiusa sepolto sotto le coperte in una culla presso il mio letto dove non avrei potuto dormire io come ho potuto fare quel che ho fatto lo so forse quale forza mi ha spinto quale potenza malefica mi ha posseduto la tentazione del delitto mi è venuta senza che io l'abbia sentita arrivare ricordo soltanto che il mio cuore batteva spaventosamente batteva così forte che lo udivo come si odono i colpi di martello dietro una parete non ricordo che questo il mio cuore batteva nella mia testa c'era una strana confusione un tumulto uno sfacelo di ogni ragionamento di ogni sangue freddo mi trovavo in una di quelle ore di smarrimento e di allucinazione in cui l'uomo non ha più la coscienza dei suoi atti nella direzione della sua volontà in silenzio sollevai le coperte che nascondevano il corpo del mio bambino le rigettai ai piedi della culla e lo vidi interamente nudo non si svegliò me ne andai allora verso la finestra ad agio ad agio e la persi un soffio di aria gelida entrò come un assassino così freddo che indietreggiai innanzi adesso e le due candele palpitarono e rimasi presso la finestra non osando voltarmi come per non vedere ciò che accadeva dietro di me e sentendo senza posa scivolare sulla mia fronte sulle mie guanze sulle mie mani l'aria mortale che entrava per sempre questa apertura durò a lungo non pensavo non riflettevo ad un tratto una piccola tosse mi fece passare uno spaventevole brivido dai piedi alla testa un brivido che ho ancora in questo momento nella radice dei capelli con un rapido moto chiusi le imposte poi voltatomi corsi alla culla il bimbo dormiva sempre la bocca si è chiusa interamente nudo toccai le sue gambe erano gelate le ricoprì il mio cuore ad un tratto si intenerì si spezzò si riempì di pietà di tenerezza d'amore per quella povera creaturina innocente che avevo voluto uccidere la baciai lungamente sui capelli fini poi ritornai a sedermi davanti al fuoco pensavo con stupore con orrore a ciò che avevo fatto chiedendomi d'onde vengono quelle tempeste dell'anima in cui l'uomo perde ogni ragione delle cose ogni autorità su se stesso che agisce in una specie di abbrezza folle senza sapere ciò che fa senza sapere dove va come una barca nella tempesta il bambino tossì ancora una volta e mi sentì straziare il cuore se fosse morto mio dio mio dio che sarai diventato io non sai per andare a guardarlo e con una candela in mano mi curvai su di lui vedendolo respirare con tranquillità mi rassicurai quindi egli tossì per la terza volta risentì una tale scossa feci un balzo all'indietro come quando si è sconvolti dalla vista di una cosa orribile che lasciai cadere il lume raddrizzandomi dopo averlo accolto mi accorsi che avevo le tempie bagnate di sudore di quel sudore caldo e gelato nello stesso tempo che producono le angosce dell'anima come se qualche cosa della spaventosa sofferenza morale di quella tortura indicibile che ha infatti ardente come il fuoco e fredda come il ghiaccio trasparisse attraverso le ossa e la pelle del cranio e rimasi sino allo spuntar del giorno curvo su mio figlio calmandomi allorché egli rimaneva a lungo tranquillo e percosso da dolori atroci allorché una debole tosse lo scuoteva si risvegliò con gli occhi rossi la gola infiammata aspetto sofferente quando la mia donna di servizio entrò mandai subito a chiamare un medico e gli venne dopo un'ora e disse dopo aver esaminato il bambino non ha avuto freddo mi posi a tremare come tremono le persone molto vecchie e balbettai ma no non credo poi domandai che cos'è è grave lui rispose non so ancora nulla ritornerò questa sera ritornò la sera mio figlio aveva trascorso quasi tutto il giorno in un assoppimento invincibile tossendo ogni tanto una afflussione di petto si manifestò nella notte e ciò durò dieci giorni non posso esprimere ciò che ho sofferto durante quelle interminabili ore che separano il mattino dalla sera e la sera del mattino morì e da quel momento da quel momento non ho trascorso un'ora non un'ora senza che il ricordo atroce coccente quel ricordo che dilania che sembra torcere lo spirito straziandolo non si agitasse in me come una bestia che morda chiusa in fondo all'anima mia o se avessi potuto diventare pazzo il signor puorel della vulta si tolse gli occhiali con un movimento che gli era familiare quando aveva terminato la lettura di un contratto e tra eredi del defunto si guardarono senza dire parola pallidi immobili dopo un minuto il notaio riprese bisogna distruggere questo documento gli altri curvarono il capo in segno di assentimento egli accese una candela separò accuratamente le parole che contenevano la pericolosa confessione dalle pagine che racchiudevano le disposizioni testamentarie poi le pose sulla fiamma e le gettò quindi nel caminetto e tutte tre guardarono i fogli bianchi consumarsi a poco a poco formarono in breve una specie di piccolo mucchio nero e siccome si scorgeva ancora qualche parola che si disegnava in bianco la figlia con la punta del piede schiacciò con piccoli colpi il sottile velo della carta bruciata mescolandolo alle vecchie ceneri poi rimasero ancora tutte tre un po a guardare come se avessero temuto che il segreto bruciato volasse via per il caminetto grazie 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 grazie